Non vi può essere alcun dilemma tra la protezione della salute individuale e collettiva e la difesa della nostra economia. Tanto più saremo efficaci nel piegare la curva dei contagi, tanto più velocemente potremo allentare le restrizioni oggi necessarie, evitando così un deterioramento insostenibile del nostro tessuto economico e sociale. Il Premier Conte annuncia nuove restrizioni. Al termine della complicata conferenza Stato-Regioni, il Presidente del Consiglio questa mattina ha parlato alla Camera dei Deputati, dipingendo un quadro epidemiologico critico in Italia. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun paese a individuare e adottare misure progressivamente più restrittive. Per questo Conte ha annunciato che prima di mercoledì arriveranno nuove limitazioni volte a contenere i contagi. Saranno indicate tre aree con tre scenari di rischi. E si prevede il coprifuoco serale e limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni. Inoltre è prevista la didattica a distanza integrale per le scuole di secondo grado, mentre chiuderanno mostre e musei a livello nazionale e i centri commerciali nei weekend. I lockdown locali invece, ovvero quelli riferiti a sole porzioni di territorio nazionale, saranno imposti da ordinanze del Ministro della Salute, Speranza. Prevediamo di introdurre ulteriori disposizioni restrittive, graduandole di intensità e severità in proporzione al coefficiente di rischio. Questo pomeriggio è previsto il passaggio in Senato, mentre Conte promette aiuti, a partire dalla Cassa Integrazione, per far fronte alla crisi economica. Anche a fronte di queste ulteriori limitazioni, d'accordo con il Ministro Gualtieri e con il Ministro Patonelli, stiamo già lavorando per compiere, realizzare, per seguire ogni azione utile, per ristorare e sostenere i settori colpiti e per questo appunto cercheremo di concretizzare queste erogazioni in termini di ristori e indennità al più presto. In conclusione il Premier ha invitato tutti, opposizioni comprese, all'unità. Restiamo uniti, restiamo uniti in questo drammatico momento, a dispetto delle diverse idee, convinzioni, in nome dell'unità, dei valori che sono a fondamento della nostra convivenza e del nostro quadro costituzionale. Grazie.